Il ringraziamento particolare è quello più sentito e sicuramente va a mia famiglia, a mia moglie e ai miei figli. Aspettate un po'. A mia moglie che... è stata tutti i giorni con me e mi ha dimostrato un'altra volta, anche se non c'era bisogno, di essere molto fortunato, di avere una donna accanto così, che forse è l'unica persona che conosco e che forse ha più palle di me. Grazie.